Ciao! Tu sei? Sono Sandra e vengo dalla Lombardia. Dai Smetter, dai. Ed ecco il provolone, la crema al peperone. Ci faccio una canzone perché è la mia passione. Adesso è la sua passione. Per noi è il top! La selezione continua. Prova il Lombardo con provolone e valpadana DOP. Il voto è il tuo preferito. McItaly, il gusto McDonald's. Parla italiano.